Io ho pagato metà finanziamento, poi non ho pagato più. Come posso uscire dalla CRIF? Dalla CRIF si esce anche non pagando i finanziamenti, entro 5 anni dalla scadenza contrattuale. Il problema sarà la centrale rischi, dove per debiti non pagati rimane la segnalazione. Sarà necessario quindi trovare un accordo a rate o a saldo estralcio, in modo tale che da quel momento possano decorrere le tempistiche per la cancellazione e per poter ottenere poi nuovi finanziamenti. Se hai difficoltà ci contatti ai link in bio oppure ci scrivi un messaggio.